Sono passati sette anni da quando la Regione ha approvato il piano regolatore generale di Barcellona Pozzo di Gotto. Ieri sera, finalmente, il Consiglio Comunale ha votato la presa d'atto. Unanime il consenso espresso dai 14 consiglieri che hanno preso parte alla votazione. Si tratta del Presidente del Civico Consesso, Angelo Paridepino, di Giuseppe Sottile e Tonino Sottile di Fratelli d'Italia, Gianluca Sidoti e Nicola Tripaldi di Nuova Alleanza, Orazio Calamuneri, Carmelo Cutugno e Lorenzo Gitto del Partito Democratico, Carmelo Materia del Gruppo Misto, Nino Novelli e Roberto Bonanzinga di Voltiamo Pagina, Carmelo Pirri, Tonino Caranna e Vittorio Genovese di Insieme per Barcellona. La seduta, convocata per il giorno prima, è slittata alla serata di ieri a causa del mancato raggiungimento del numero legale. Si chiude quindi l'iter per la presa d'atto del PRG ed il Presidente del Consiglio, Angelo Paridepino, non nasconde la sua soddisfazione ringraziando la terza commissione preseduta da Orazio Calamuneri e l'architetto Mario Sidoti Migliore, chiamato in aula ad illustrare tutti i particolari del PRG. Una buona notizia quindi per Barcellona Pozzo di Gotto che adesso potrà usufruire del piano regolatore generale come possibile nuovo volano per tentare di risollevare le sorti dell'economia cittadina.